Salve mi chiamo Deborah. Sono il vostro agente immobiliare virtuale. E sono lieta di accompagnarvi durante la visione dell'immobile sito in Sesto San Giovanni, via Cattaneo. Buona visione. Stai cercando un appartamento spazioso e luminoso a Sesto San Giovanni? Abbiamo quello che fa per te. Ti presentiamo questo accogliente appartamento di 90 metri quadrati, situato a pochi minuti dalla fermata della metropolitana Sesto Rondò, al quarto piano di un edificio con ascensore. L'appartamento è composto da un soggiorno, una cucina semiabitabile, due camere da letto matrimoniali, un bagno, una grande balconata e un terrazzino che permette di pranzare e passare piacevoli momenti all'esterno della casa. Le condizioni interne sono ottime, la casa è stata recentemente ristrutturata e offre un ambiente moderno e confortevole. Il riscaldamento è centralizzato, inoltre è presente un impianto di climatizzazione per affrontare al meglio le calde estati. Non lasciarti sfuggire questa opportunità. Contattaci oggi stesso per organizzare una visita e scoprire di persona tutte le potenzialità di questa splendida casa Sesto San Giovanni. Mi auguro che con questo video sia riuscita a trasmettervi le potenzialità dell'immobile. Lo staff dell'agenzia rimane a vostra disposizione per maggiori informazioni e per organizzare una visita. Grazie per aver visionato il video. Se ti è piaciuto metti un like o scrivi una recensione.